L'apertura del nostro notiziario ci porta a parlare ancora degli sviluppi relativi all'incendio che si è sviluppato domenica nella riserva d'Annunziana di Pescara. Nel primo pomeriggio di oggi, tra l'altro, un piccolo focolaio ha ripreso vigore nella riserva d'Annunziana di Pescara. Forze dell'ordine, vigili del fuoco e mezzi del comune sono prontamente intervenuti sul posto per domare le fiamme che hanno colpito l'aria retrostante la filiale delle poste di Viale Luisa d'Annunzio. Il rogo, complice il vento, ha ripreso vigore attorno alle 14.30, interessando un'area di circa 3.000 m2, ma nel giro di un'ora è stato spento e ora la situazione non desta più preoccupazione. La zona è comunque controllata a vista in più punti per intervenire in caso di ripresa dell'incendio.